Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato. L'aborrito con fin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati. E allora nel cuore, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. E allora nel cuore, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Grazie per la visione!